Buon pomeriggio a tutti, come diceva David oggi parliamo di spazio e in particolare io volevo parlare di come lo spazio è presente nella vita di tutti i giorni e soprattutto di come lo spazio stia cambiando sempre più velocemente. E per farlo comincio da qui. Questa è la Terra, come siamo abituati a immaginarla e lo sfondo nero è quello che siamo abituati a chiamare spazio. Se la guardiamo bene però ci rendiamo conto che la Terra sembra un po' una navicella spaziale e come tutte le navicelle spaziali che si devono portare appresso tutto quello di cui l'equipaggio ha bisogno perché non lo si può andare a recuperare fuori durante il viaggio, così è la Terra che viaggia nello spazio portando in sé tutte le risorse di cui gli umani hanno bisogno. Un tempo i confini della Terra si limitavano alla superficie terrestre, quindi i confini di questa navicella erano rappresentati dalla superficie terrestre. Oggi questi confini si stanno espandendo, andando ad occupare anche una parte dello spazio stesso che già oggi viene usato per erogare servizi che migliorano la vita di tutti i giorni. Cosa intendo quando dico che lo spazio sta cambiando? Se pensiamo a quando il concetto di spazio è nato con la corsa alle missioni spaziali tra Stati Uniti e Unione Sovietica 60 anni fa, un tempo l'accesso allo spazio era proprio dei governi e delle istituzioni, quindi presidio degli stati più grandi. Con il passare del tempo e soprattutto oggi sta diventando sempre più accessibile a tutti, soprattutto ad aziende private che hanno la possibilità e scelgono di fare dello spazio l'ambiente in cui sviluppare il proprio business. Perché questo è possibile? Se dovessi rispondere darei sostanzialmente tre punti. Il primo sicuramente è la miniaturizzazione, come abbiamo visto anche prima, la miniaturizzazione nell'elettronica che vediamo tutti i giorni qui sulla Terra ha avuto degli impatti importantissimi anche nello spazio, quindi siamo passati da satelliti grandi come questa stanza che pesano tonnellate, a satelliti più o meno grandi così, in grado di fare le stesse cose che facevano i colossi di prima. E oggi abbiamo dei satelliti che stanno nel palmo di una mano e questo vuol dire che siamo in grado, grazie alla miniaturizzazione, di produrre degli oggetti complessi a costi minori, a tempi minori, quindi più accessibili diciamo a molti. Il secondo motivo è sicuramente la crescita dello spazio commerciale, quindi questa è un'immagine di quali fossero gli stati che nel 1966 avevano in un modo o nell'altro accesso allo spazio, poco e niente, quindi di base Stati Uniti e Unione Sovietica. L'anno scorso la fotografia era un pochino diversa, quindi la cartina è quasi tutta arancione e questa è dimostrazione che sempre più Stati riconoscono il valore strategico di avere accesso allo spazio. Ogni Stato vuole il suo piccolo appezzamento di spazio, come un tempo si voleva il piccolo appezzamento di terreno. Siamo passati da aver lanciato 800-900 satelliti negli ultimi 10 anni a più di 7.000 satelliti che si vogliono lanciare nei prossimi 10 e anzi in realtà, questo è anche ottimista perché le ultime stime parlano di addirittura 11.000 satelliti, quindi una crescita esponenziale del numero di satelliti lanciati nello spazio e di conseguenza anche dei servizi di cui potremo disporre. Abbiamo sentito parlare di personaggi importanti, non sono qui a parlare ma li ho messi nella presentazione comunque. Che cosa vogliono fare questi satelliti? Un esempio è dato da Richard Branson che ha dichiarato io voglio costruire la più grande costellazione di satelliti mai esistita al mondo e in particolare sta proponendo, sta lavorando per lanciare in orbita circa 900 satelliti in grado di fornire una copertura globale dei servizi internet per poter garantire anche che 4,2 miliardi di persone che oggi non hanno accesso a internet di poter navigare. Ovviamente se Richard Branson dice 900, un suo collega e competitor rilancia, questo è l'OnMask, che parla di 4.000 satelliti da lanciare in orbita per fare sostanzialmente la stessa cosa, quindi per garantire una copertura globale per quanto riguarda i servizi internet. Il terzo punto che favorisce questo cambiamento, questo passaggio allo spazio 2.0 è sicuramente l'accesso al capitale, quindi ci sono sempre più aziende private che riescono ad ottenere fondi da enti privati per poter fare del business nello spazio. Anche start up che stanno crescendo di giorno in giorno, soprattutto in questi ultimi anni. Che cosa si intende quando dico spazio 2.0? Che cosa fanno tutte queste aziende? Diciamo che ci sono un sacco di aziende che decidono di fare del mercato spaziale il proprio business, ma su cosa lavorano? La risposta è un po' su tutto, cioè su tematiche che sembrano fantascienza, ma che sono realtà, a cose diciamo più normali. Ovviamente parto dalla prima. C'è chi vuole fare asteroid mining, quindi andare sugli asteroidi per recuperare quelle risorse naturali così preziose di cui gli asteroidi sono ricchi, per poter creare un'industria nuova, quindi un'industria con sede basata nello spazio. C'è una società che si chiama Deep Space Industry che è stata finanziata da capitale privato proprio per fare questo. Oppure ci sono aziende che stanno lavorando per costruire dei capannoni nello spazio da affittare, da affittare o a degli hotel o a degli uffici o a delle industrie. Questa è un'immagine di Bigalow Aerospace dove il signor Bigalow è uno dei più grandi imprenditori negli Stati Uniti nel campo degli hotel e quindi lui dice sempre il mio business è così di successo sulla terra che non posso credere che non lo sarà un domani nello spazio. E quindi ha investito creando questa azienda che si occupa proprio di questo. Abbiamo le aziende, abbiamo gli hotel, il passo verso il turismo spaziale è abbastanza breve. Già oggi Virgin Galactic permette di comprare dei biglietti per farsi un giro fuori dall'atmosfera a circa 100.000 dollari e ci sono altre aziende in realtà sia negli Stati Uniti che in Italia come Shipping Space che stanno lavorando a questo. Oppure notizia un pochino più fresca degli ultimi mesi avrete sentito sempre l'on mask parlare della possibilità non solo di farvi un giro fuori dall'atmosfera ma di andare a farvi un giro attorno alla luna e tornare indietro. Io personalmente non conosco nessuno che oggi si può permettere questo biglietto che costa 80 milioni di dollari però in un futuro tra un paio di anni sarà possibile. E visto che c'è chi si preoccupa di dare la possibilità a chiunque di fare un giretto nello spazio c'è anche chi pensa ai più nostalgici ovvero perché non pensare di passare la propria vita eterna nello spazio. C'è un'azienda che si chiama Elysium Space che dà la possibilità e sta per lanciare nel 2017 questo nuovo mercato di portare le ceneri dei cari nello spazio così che si possa commemorare la loro memoria guardando al cielo stellato al posto che guardando verso terra. Oppure restando in tema e dico restando in tema perché in realtà al momento hanno pensato solo a come mandarci le persone e non ancora a come tornare indietro la possibilità di andare un giorno su Marte quindi anche questa un'azienda che si chiama Mars One che sta lavorando a questo. Ora avevo detto che sarei partita un pochino da quello che sembra più fantascienza anche se in realtà è realtà. Tutte queste sono aziende che lavorano hanno ricevuto degli investimenti e un giorno arriveranno a fare quello che hanno promesso di fare. Possiamo chiederci però oggi quindi tornando un pochino più con i piedi per terra che cosa quali sono i benefici che arrivano dal mondo satellitare? Soprattutto quali sono i benefici che arriveranno da tutte quelle costellazioni dal gran numero di satelliti che verranno lanciati in futuro. Come dicevo prima internet ovunque. L'agricoltura oggi beneficia tantissimo del mercato spaziale. Si ha la possibilità di produrre di più e di produrre meglio soprattutto pensando a quei paesi in via di sviluppo dove creare delle infrastrutture ad hoc per questo risulta difficile o troppo costoso. Comunicazione. Come dicevo a noi sembra normale pensare di poter telefonare a un amico che sta negli Stati Uniti in due minuti. Per la maggior parte delle persone non è così e grazie a questo sviluppo riusciremo a garantire anche questo. L'internet delle cose di cui si parla sempre di più. Quindi la possibilità di connettere degli oggetti molto distanti tra di loro o di connettere i nostri oggetti di casa fra di loro rendendoli intelligenti. Quindi connettere il vostro water al frigorifero e impedire al frigorifero di comprare quello che vi fa star male per esempio. Usare i satelliti per migliorare il traffico aereo, il monitoraggio del traffico aereo o la gestione del traffico di tutti i giorni. Questa è un'immagine di un'autostrada in Cina. Il caos che si creerebbe se una gestione mirata di questo tipo di problemi non fosse assistita da dei servizi satellitari. La gestione delle flotte marittime. Il grande aiuto che arriva dai satelliti che fanno monitoraggio della terra per prevenire quando si può soprattutto monitorare incendi, terremoti. Il monitoraggio dell'atmosfera, della composizione dell'atmosfera per ridurre l'inquinamento. Ci sono satelliti che lavorano per trovare l'acqua. Riescono a guardare sotto il terreno per cercare dove sta l'acqua nei territori dove ce n'è bisogno. Potrei andare avanti ancora per molto, ma so che probabilmente la domanda che tutti si fanno è tutto bellissimo, fantastici benefici che ne possono arrivare, ma dov'è la fregatura? Perché nessuna magia viene gratis, sicuramente da qualche parte c'è uno scotto da pagare. Lo scotto c'è. Se pensiamo per esempio a una delle grandi costellazioni che ho menzionato prima, a sinistra vediamo se funziona, se non funziona fa uguale, non funziona. Vediamo tutte le orbite dei vari satelliti dove i pallini sono i satelliti. Se questo sarebbe un video, diciamo, quello che vedremmo sarebbe... niente, è saltato tutto. Quello che vedremmo sarebbe che questi pallini, quindi questi satelliti, sono posizionati in modo ottimale sulle orbite, in modo tale da intersecarsi ma non scontrarsi mai. Che cosa succederebbe se uno di questi satelliti o più dovesse rompersi? Quello che accadrebbe sarebbe un incrociarsi continuo e pericoloso con i satelliti invece funzionanti. E se questi satelliti funzionanti non dovessero spostarsi per tempo, sarebbe inevitabile una collisione. Quello che vedremmo in uno di questi filmati è proprio la dimostrazione di come un satellite non funzionante comporterebbe delle collisioni in orbita con la generazione di centinaia di migliaia di frammenti che andrebbero a spazzare via la costellazione stessa e quindi tutti i satelliti funzionanti della costellazione. E questo è uno dei principali problemi degli operatori di questi tipi di satelliti che devono preoccuparsi di come gestire il fine vita di questi satelliti e soprattutto degli eventuali malfunzionamenti per evitare di trovarsi non solo a gestire la flotta di satelliti funzionanti ma a gestire la flotta di quei satelliti che sarebbero in orbita non funzionanti che rischia di essere anche di un'ordinezza in più rispetto a quelli che invece fornirebbero servizio. Quindi, tornando un attimo all'immagine della Terra, questa è una foto che fu scattata da una delle missioni Apollo. In realtà, se noi adesso ci sedessimo sulla Luna e guardassimo indietro verso la Terra, quello che vedremmo non è certo questo, ma è qualcosa che assomiglia di più a questo quando arriva. Vediamo se riuscite a mandare la presentazione di uno in più. Comunque, quello che vedremo sarebbe, quando arriva l'immagine, una quantità di oggetti intorno alla Terra, ce ne sono centinaia di milioni al momento, che sono costituiti da satelliti non più funzionanti in parte, in cui la politica per anni ad oggi è stata quella di lanciare i satelliti in orbita, nello spazio, e lasciarli là una volta arrivati a fine vita, a viaggiare incontrollati, generando, ecco qui, quello di cui parlavo, generando delle possibili collisioni in orbita o rischiando anche che qualcuno di questi oggetti possa cadere a Terra, come in effetti a volte succede. Si stima che, in media, un oggetto al giorno dallo spazio più o meno rientri. Questo è quello di cui si occupa di Orbit, o almeno così di Orbit è nata. Di Orbit è un'azienda che ha sede in Italia, in Portogallo e negli Stati Uniti e ci occupiamo di affrontare il problema dei detriti spaziali come un'opportunità per gli operatori satellitari di migliorare le proprie prestazioni di business, andando però a eliminare quegli effetti collaterali di cui ho parlato prima, sull'ambiente, sul mercato spaziale stesso e sulla nostra vita di tutti i giorni. Questi sono alcuni dei nostri prodotti. Il prodotto principale è un sistema appunto di rientro che viene installato sui satelliti prima del lancio e che permette di rimuoverli quando non funzionano più o una volta arrivati a fine vita. Dei sistemi che permettono un'iniezione più accurata dei satelliti in orbita, riducendo le possibilità di danneggiamento dei satelliti stessi, quindi creando la generazione di ulteriori detriti. E anche una piattaforma per il posizionamento di microsatelliti in orbita, in modo tale da posizionarli dove è necessario che vengano messi perché possano effettuare il proprio business, rimuovendosi poi a fine vita senza creare ulteriori detriti. Al momento, di orbita è ancora riconosciuta come leader mondiale per le soluzioni di mitigazione al problema dei detriti spaziali e in primavera, il prossimo mese, lanceremo quello che sarà il primo satellite rimosso in modo diretto tramite un dispositivo dedicato e indipendente per la rimozione di satelliti a fine vita. La missione si chiama DISAT ed è una tecnologia tutta italiana. Quindi noi lavoriamo per passare da questa situazione a questa e permettere a voi un giorno di andare a farvi una vacanza sulla Luna, oppure con il famoso ritorno ai campi all'agricoltura che adesso è tanto famoso in Italia, andarvi a coltivare qualcosa su Marte, anche se tutto questo sarà possibile ricordandoci che la Terra è un'astronave. Questa è un'immagine presa da una sonda su Marte che guarda la Terra, è un puntino che viaggia nello spazio e se non ci prendiamo cura di questo puntino il rischio è che non riusciremo a fare tutte quelle cose meravigliose che già abbiamo iniziato a fare. Chiudo con una citazione del segretario generale delle Nazioni Unite che ho tradotto in modo un po' maldestro però dice salvare il nostro pianeta, eliminare la povertà, migliorare la crescita economica, queste sono le nostre battaglie. Dobbiamo mettere a fattore comune il cambiamento climatico, la scarsità d'acqua, di energia, la salute delle persone, la garanzia di cibo per tutti e l'uguaglianza. Le soluzioni ad un problema dovranno essere anche la soluzione per tutti gli altri e a noi piace pensare che questo sarà possibile grazie anche al mercato spaziale. Grazie.